E parte l'incontro di FMA tra Ginelli e Caccamo, un'auto da 3 minuti. Ale, afferragli la mano, Alessandra la sua mano, tranquilla Ale, tranquilla Ale, respira, respira, guarda verso l'alto Ale, sotto il pantale in alto, c'è il dico, respira la mano, afferragli la sua mano, la sua mano Ale. Sfira col piede. Giù il peso, giù il peso. Vai così, esci, esci da lì. Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Ok! Cerca di ribaltare quando riesce, Ginà, solo se sei sicuro! Vai, Ale! Ponte! Ok, Ginà! Controlla le braccia, Ale! Controlla le braccia, via da lì! Viva le braccia, viva! Dai, Ale, un minuto! Resisti! Dai che manca poco, Ale! Via da lì, Ale! Ale, appena si alza sui piedi, sbilanciale! Sbilanciale, Ale! Sbilanciale, Ale! Guarda che lì le braccia, Ale! Hai le braccia, hai le braccia! Dai che le braccia, dai! Così! Taccaci! Taccaci! Ok! Ok! Ale, bolla il braccio! Ale, in tartaruga, Ale! Non farti prendere! Dai, Ale, movimento da sotto, però! Gira, cresce! Gira, cresce! Gira, cresce! Gira, cresce! Girocchio, difendi! Bravissima! Non farti montare! No! Spingi via! Spingi via! Spingi via! Spingi via! Spingi via! Tieni la mezza! Tieni la mezza! Stop! Stop! E' la prima! Sì! Madonna! Paraglianza! Spingi via! Va, Ale! Va, Ale! Dai, Ale! 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 Gina, devi ascoltare di qua, però! Siamo... Uh! Vai! Subito, Ale! Dentro, subito! Dai, Gina! Dai, che è cotta! Una, due! Una, due! Porta a terra! Dai, Ale! Così! Ecco! Come puoi, Ale! Ginocchia, Ale! Portala giù come puoi! Grande! Portala giù come puoi, Ale! Dai, Ale! Dai che manca poco! Dai, dai, dai! Sbilanzio! Sbilanzio e porta a terra! Di che angolo sei? Non si può andare avanti su! Di che angolo sei? Ehi! Angolo dentro, là! Dai! Per favore del nastro, guarda! Ehi, le tira! Ehi! Ce l'hai? Ci l'hai? Ci l'hai! Vai, Ale! Ci vuole del nastro! Arriva! Ce l'hai? Ci l'hai? Arrivami, spira! Vai, Ale! Spira! Mi sta dando benissimo, Ale! È tutto ok? Dai, Ale! Vai, Ale! Vai! 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 Che agilità signora! Vai Ale! È cattiva! Ale è quello che ti ho detto! 1-2 è porta a terra! Così! 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 Oh! Brava Ale! Bravissima Ale! Tieni la lì Ale! Tieni la lì! Manca poco! È quasi il piedino, dai! Tira, tira, c'è la schiena, c'è la schiena Ale! Fine dell'incontro! Grazie! Applausi! Grazie! Grazie! Buon mortale! Così insieme! Brava Ale! Brava Ale! Sì, sì, sì. Grazie